Musica Mirko Savoia Come stai? Benissimo, dai un po' giù per la brutta mano Un errore Ce la vuoi raccontare? Sì, allora L'errore è mio, chiaramente Ho Asso Donna, rilancio Mi contro rilancio da bottone Chiamo, erroneamente Esce un flop Asso KK Vado in Continuation Bet, mi chiama Vado ancora in Continuation Bet Mi manda la vasca Io chiamo, pensando che avesse una coppia sotto la mia Invece va KK Quindi ho perso con un poker Non poteva che avere un Asso KKK Ho fatto l'errore In generale com'era il tuo tavolo? Abbastanza giocabile Chiaramente con i bui così alti I race arrivavano forti, veloci, continuativi Sempre A ogni mano, quindi è andata così Carte preferite o fortunate? Nessuna Ho carte che magari mi piacciono un po' di più Però non mi innamoro Nel senso, le contestualizzo tutte Mi piacciono comunque 10 jack suited a pic E 5-7 a quadri Però vabbè Non mi innamoro dai Senti, sei venuto da solo a questo torneo? No, con amici Tutti i ragazzi di Cervi Eravamo in 2-3 Facciamo, dai Cerca sempre di venire su un qualcuno E' la prima volta che partecipi a questo torneo? Prima Ti sei trovato bene? Benissimo Tornerai? Spero Va bene Allora ti facciamo un in bocca al lupo Per i prossimi tornei E grazie Grazie